Sto per farti vedere la mia pianta gigante di pomodori. Ebbene sì, guardate quanto è alta! Luca ha dovuto addirittura prendere una scala per arrivare fino a su. Abbiamo piantato due qualità di pomodori, questi che sono i ciliegini e poi questi che non so come si chiamano ma sono un po' più grossi. Ed eccomi qui in tenta a raccogliere. Quanti ne avrò raccolti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e andiamo subito a pesarli. Sono proprio curiosa di sapere quanti sono. Un chilo e mezzo? Mangiamoli subito, eccomi sono buoni!